We make the strings louder Buongiorno ragazzi sono un Gioquo, questo qua è nuovissimo e vilissimo il video sul mio canale E nulla ragazzi, in pratica già dal titolo avete capito quanto cazzo è epico questo video Cioè il titolo si chiamerà, non so ancora come chiamarlo, cioè per farvi capire cosa ho fatto Il titolo tipo penso di chiamarlo sbloccare la mimetica diamante con un trickshot E sì ragazzi, è quello che è successo davvero In pratica io ho deciso di fare così, di fare questo piccolo cosa creativa, cosa abbastanza simpatica Che ho fatto tutte le mimetiche del Locus, tutte le mimetiche del P06, tutte le mimetiche del Dracon Mentre dell'SVG ragazzi ho fatto tutte le mimetiche tanne quella dei senza accessori Senza accessori ho fatto solo 49 kill, quando in realtà devo fare 50 kill senza accessori Ne ho tralasciata una E poi mi sono fatto una classe per fare trishot senza accessori all'SVG E ho fatto trishot ragazzi con quella classe E facendo trishot con quella classe, come vedrete alla fine del video Si vedrà io Oddio se lo ammazzavo di nuovo tipo ammazzavo solo questo tutta una partita Vabbè, lo vedrete a fine video che appena hitto questo trishot che è su Combine Perché è fatto su Combine Comunque vedete che sblocco la mimetica oro e successivamente quella diamante E purtroppo ragazzi, cioè purtroppo dio Sta cosa l'ho fatta in mid game, cioè vuol dire durante la partita e non in killcam Semplicemente per il fatto che se l'avessi fatta in killcam Non si sarebbe visto Non si sarebbe visto che ho sbloccato la mimetica Ma dovevo andare a aspettare che finiva la partita Andare su... Dovevo andare direttamente a fine della killcam e tutto nella lobby per partita Vedere cosa ho sbloccato in quella partita Sarebbe... Non avrebbe fatto lo stesso effetto Non avrebbe dato lo stesso effetto secondo me E quindi ho deciso di farlo in mid game Quindi durante la partita e non in killcam La clip in sé non è neanche tanto assurda Però mi ne migro abbastanza lontano E penso che questa clip la metterò closer del mio episodio Sarà la clip che chiuderà il mio settimo episodio Allora, questa cosa ragazzi volevo farla con la Dark Matter Cioè non che sbloccavo la mimetica da Mante Ma che sbloccavo la mimetica Dark Matter direttamente Solo che ragazzi sarebbe stato davvero troppo lungo Cioè avrei fatto questo video tipo tra 65.000 anni E infatti ho fatto direttamente la diamante Però ragazzi stavo pensando che su Dark Matters veterano Tutti contro tutti veterano Si può hittare Hittare ragazzi vuol dire fare trickshot Si può hittare un trickshot Con qualsiasi arma Quindi pensavo ad esempio Di solito ho visto delle clip su veterano con il Gorgon Con la pistola E quindi io avevo pensato di farlo direttamente con Oh, ok Di farlo direttamente ad esempio con il Gorgon Oppure con la pistola E quindi anche quello sarebbe una cosa abbastanza carina Se lo volete ditemelo che ve lo faccio Ve lo farò avere Però comunque calcolate che Io per la Dark Matter mi manca Dove era quel porco? Maiale Per la Dark Matter mi manca ancora un bel po' di sfide Ma un bel po' eh Per ora ho fatto solo Fucili d'assalto Mitragliette e cecchini E' nulla ragazzi Il video di oggi è finito Godetevi la clip ragazzi Che secondo me è una clip che davvero merita tanto Per il semplice fatto che è Una clip davvero creativa secondo me Lasciate un bel like Un bel commento E godetevi la clip Da giù è tutto Bella Oddio L'ho hitato L'ho hitato finalmente Finalmente Mimetica diamante shot L'ho hitato Si cazzo Ho hitato un trick E si vede finalmente Mimetica diamante sbloccata Con SVG Cazzo si cazzo Quitiamo subito Facciamo andare a vedere Che ho sbloccato la mimetica SVG E questo qua Va nell'episodio Odio odio Ah Sos Eccola Mimetica diamante Finali 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 Scusate se non c'è la webcam Raga ma sono tipo le Tredici e mezzo Di mezzanotte Ezo Dai raga E ci vediamo al prossimo video Da oggi è tutto Bella bella Lascio E ci vediamo al prossimo video